buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è sabato 10 febbraio 2024 vediamo subito chi si festeggia oggi per poi subito leggere i giornali perché insomma siamo nel weekend ci sono tante tante manifestazioni siamo ormai nel culmine del carnevale e in tutto il territorio non solo a fama fama ovviamente il carnevale quello più sentito si svolgono tante tante iniziative e allora vediamo chi si festeggia oggi ed è santa scolastica un nome molto noto nella storia della chiesa perché santa scolastica era la sorella di san benedetto e san benedetto è colui che fondò il monachesimo occidentale anche lei fondò una comunità religiosa di cui divenne badessa e visse ovviamente una vita santa devota alla chiesa e anche molto molto devota molto devota anche al fratello di cui conosceva aveva un intesa particolare insomma aveva una intesa di santità che è poi emerse nel corso di tutti i secoli successivi e questa è santa scolastica vediamo ora le previsioni del tempo ebbene il tempo comincia a essere un po' instabile si sta perturbando le alte pressioni che hanno governato il nostro territorio stanno un po' diminuendo e ci sono c'è qualche cenno di pioggia più abbondante nei settori dell'entroterra verso l'appennino il clima comunque comincia a essere ventoso le temperature 10 gradi la minima 13 la massima i venti sulle coste spirano da sud est mentre nell'entroterra da sud e il sole sorge questa mattina alle 7 e 15 e tramonterà alle 17 e 27 ed ora apriamo i giornali vediamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove si parla di un incontro di un convegno che si è svolto ieri online ormai ci sono queste forme di incontro che collegano un po con una rete tutti coloro che hanno un computer quindi possono interloquire ebbene il tema in discussione era un tema importante perché si parlava del piano delle antenne e sappiamo come il sorgere di tante antenne il diffondersi di questi impianti nel territorio susciti anche delle reazioni reazioni importanti per esempio reazioni sono sorte nei pressi dello stadio Mancini a Carignano a Fenile sulla campanile del Duomo insomma ci sono diversi siti dove insomma il sorgere di tante antenne anche nella rotatoria per esempio che dà ingresso al quartiere di Sant'Orso anche lì sono sorte tante tante antenne e desta qualche timore qualche preoccupazione per il propagarsi delle onde elettromagnetiche e allora cosa fa l'amministrazione comunale già da tempo si è dotata di un piano che però a causa delle innovazioni normative che si sono succedute non è rimasto inefficace insomma non è più determinante e ora si tenta di fare un nuovo piano un nuovo piano grazie anche la consulenza di una società molto esperta nel settore la Polab che ieri ha relazionato con i suoi tecnici per quanto riguarda la normativa corrente è stato il primo di quattro incontri che si succederanno fino al mese di marzo quando l'amministrazione comunale intende approvare questo piano con la collaborazione dei cittadini quali potranno interloquire potranno evidenziare le loro istanze e fare le loro proposte e vediamo anche com'è la situazione attuale attualmente nel comune di Fano ci sono 17 impianti per la telefonia mobile della Tim 24 della Vodafone 15 della Wind 3 e 12 di Iliad e il piano tra l'altro si rende quanto mai opportuno perché ci sono le società che hanno fatto un piano di sviluppo quindi vogliono incrementare questi impianti nel territorio si tratta della Vodafone che intende coprire zone ancora scoperte sul lungomare e anche nell'interno la Wind 3 che vuole implementare i suoi impianti nella zona mare nella zona industriale e poi Iliad che sta pensando a 14 zone di ricerca solo Tim al momento non ha annunciato incrementi per quanto riguarda la sua rete delle antenne rete che è importante che ci vuole perché altrimenti i telefonini i cellulari non funzionano però insomma occorre metterli in posti dove innanzitutto non ne guastino l'ambiente e poi non creino problemi per quanto riguarda la propagazione delle onde elettromagnetiche alle residenze che sono vicine parliamo di un altro argomento molto molto importante perché interessa la salute delle persone parliamo dell'Alzheimer una malattia che si propaga in età avanzata a Fano sono molti i residenti che purtroppo soffrono di questa patologia invalidante si tratta di mille persone che corredano un po' un numero molto molto più alto che dilaga in tutta la provincia e quindi occorre un centro residenziale che costituisce una priorità lo ha evidenziato nei giorni scorsi anche il consigliere regionale Lucas Erfilippi alla Giunta con una mozione che dovrà essere discussa dal Consiglio regionale e oggi interviene anche sullo stesso argomento la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri nelle Marche 30.000 persone di cui 5.000 vivono nella nostra provincia soffrono della malattia di Alzheimer e non mi stancherò mai di ripetere come il peso più grosso dell'assistenza di queste persone malatte gravi ancora sulle famiglie ecco perché servono dei centri che possono aiutare in modo particolare le famiglie più fragili perché altrimenti si deve rinunciare a un posto di lavoro quindi ne soffre anche l'economia dei nuclei familiari perché l'assistenza di queste persone deve essere 24 ore su 24 e non possono essere lasciate sole quindi un centro Alzheimer a Fano è una priorità già esiste il centro Margherita ma è un centro diurno occorre fare qualcosa di più e soprattutto incrementare i posti disponibili per queste persone un articolo di spalla del Corriere Adriatico parla ancora dei problemi di Carrara determinati dalla centrale elettrica che verrà implementata a causa del nucleo di partenza dell'elettrodotto Adriatic Link che correderà le marche con l'Abruzzo 8 milioni di terna da impiegare a Carrara questa è la disponibilità della società per indenizzare appunto la popolazione residente che devono essere gestiti dall'amministrazione comunale ecco perché Fratelli d'Italia si associa a tutti coloro che hanno, ai residenti in modo particolare che hanno spinto l'amministrazione comunale a dire come verranno gestiti questi soldi a disposizione già i residenti hanno fatto una serie di richieste per quanto riguarda soprattutto la sicurezza viabile poi infrastrutture che devono essere realizzate a Carrara ma ancora nulla, nulla si muove e quindi ecco che si mobilita per abbreviare i tempi ed ora vediamo una notizia di cronaca sul Corriere Adriatico una notizia che occupa mezza pagina del giornale un muratore trasportava due etti di cocaina arrestato per traffico internazionale di droga in carcere è finito un albanese di Cartoceto che già era finito in manette quattro anni fa per un caso analogo quindi era già recidivo dunque traffico internazionale di stupefacenti arrestato un albanese residente a Cartoceto un muratore di 30 anni accusato di avere trasportato cocaina un episodio che risale a quattro anni fa la direzione distrettuale antimafia di Firenze ha condotto l'operazione che ha portato a misure cautelari ad altri 83 indagati eseguite due giorni fa anche con il supporto delle forze di polizia internazionale ovvero albanese, spagnola, olandese e tedesca quindi una vasta operazione che ha coinvolto anche il nostro territorio e nel nostro territorio sorgono iniziative molto molto così profi molto molto utili specie in modo particolare per l'assetto sociale del nostro territorio dello stesso si tratta della fondazione Homo Bonus una fondazione che scende in campo la notizia è dell'entroterra per aiutare i soggetti deboli costituita da imprenditori illuminati per realizzare progetti sociali è stata presentata ieri questa nuova associazione presieduta da Lorenzo Campanelli titolare della LCSPA Industria del Mobile di Isola del Piano ebbene a così convalidare questa nuova associazione i due vescovi quello di Fano e quello di Pesaro abbiamo Monsignore Andreozzi e Monsignore Salvucci appunto che hanno così presenziato alla presentazione in questa fotografia vediamo Bartocetti Andreozzi la prefetta il prefetto greco e poi il vescovo di Pesaro Salvucci e il presidente Campanelli un ampio sostegno all'iniziativa è arrivata appunto da queste personalità ciò che si intende fare è dare un contributo ai più deboli e migliorare la loro esistenza nel nostro territorio quindi una iniziativa benemerica ed ora parliamo anche delle carnevale perché insomma abbiamo detto che siamo nel weekend clou di questa manifestazione a Fano si susseguono iniziative mostre, veglioni, feste insomma siamo veramente nel centro delle carnevale vediamo quali sono gli appuntamenti di oggi si comincia presto si comincia presto alle 9.30 con l'apertura della mostra carnevale a mattoncini lego a cura di marche bricche con laboratori dedicati a grandi e piccini a Palazzo Bracci Pagani alle 11 al Fano Center nuova sfilata della musica arabita vera anima del carnevale di Fano alle 15 al cinema a Masetti ci sarà un incontro finale del percorso formativo con le insegnanti delle scuole che hanno partecipato ad un progetto che si intitola Rosita nelle scuole alle 18 una burla di carnevale letture dal libro Fragili attese di Ariodante Ramovecchi e poi stasera a Villa Peccinetti e alla Bocciofila i due veglioni uno organizzato dalla carnevalesca quell'altro organizzato dalla Proloco due veglioni in concorrenza ma sono entrambi pieni di gente insomma si sarà una festa sia in collina che in zona pianura e quindi tutto il territorio viene coinvolto e vediamo ora la pagina della Val Cesano siamo a Pergola a Pergola si parla di turismo ed è un turismo particolare perché fa affidamento sul lato verso il lato enogastronomico e la punta di Pergola ovviamente è il tartufo quindi imporre una strategia turistica sul tartufo costituisce insomma così vedere finalizzare una forza d'attrazione che è veramente importante una forza che riesce a attrare tantissime persone l'assessore di Pergola Santelli appare soddisfatta dal confronto che c'è stato alla BIT di Milano dove si è parlato diffusamente della città del tartufo per nuovi progetti comuni una città poi che si pone in relazione con tutto il territorio e vediamo anche la pagina di Senigallia dove parte l'osservatorio del turismo riflettori sulla tassa di soggiorno ma l'opposizione però critica le modifiche che sono state apportate in commissione e poi ci sono prove tecniche per il cuore di San Valentino e vedete come il calendario delle iniziative si evolve e si dà il testimone si passa il testimone l'uno con l'altro il Natale con il Carnevale il Carnevale con San Valentino poi ci sarà la festa della donna e poi si cominciano con le manifestazioni turistiche di bassa stagione è un calendario ormai consueto che si rafforza magari si modifica in qualche parte ma che costituisce veramente l'anima della tradizione del nostro territorio e vediamo anche questa notizia che ci giunge da Fabriano era ai domiciliari usciva per rubare presa la ladra dei centri commerciali si tratta di una 51enne romena arrestata dalla polizia dopo un furto Alfano Center insomma veniva da Fabriano qui a Fano non poteva comunque lasciare la sua città non poteva lasciare Fabriano e quindi ha fatto veramente un duplice reato quella di essere evasa dai domiciliari e quella di aver fatto un furto insomma questo è un po' quello che appare in questo articolo vediamo anche la pagina di Pesaro dove si parla dei posti che non si trovano nelle scuole materne del capoluogo 200 famiglie sono in coda riusciremo a trovare i posti che mancano ebbene l'assessore Murgia a questo proposito cerca di raddoppiare gli sforzi per individuare posti ma ribadisce le accuse verso la regione mancano 2 milioni ha detto per coprire le esigenze e la regione e la regione ci dà i voucher questi ovviamente non bastano per coprire tutte le domande che vengono presentate all'amministrazione comunale ed ora passiamo passiamo ad un altro articolo reagire alle aggressioni a lezione di un campione si parla di un corso di autodifesa per operatori di polizia che viene organizzato con la presenza di un campione si tratta di Jordan Valdinocci atleta professionista istruttore coni attuale detentore di due titoli mondiali per la disciplina di kickboxing KL insomma è un campione che dimostra un po' come si fa per reagire alle aggressioni agli agenti di polizia e anche questo è un buon istruttore ed ora passiamo al resto del Carlino l'apertura è dedicata alla piaga dell'Alzheimer e a parlarne è un testimone d'eccezione l'ex primario di geriatria Antonio L'Accetera occorre una struttura residenziale ribadisce il medico il noto professionista che era già primario appunto dell'ospedale Santa Croce oltre un migliaio di malati affano quindi è un'esigenza sociale oltre che sanitaria molto molto sentita dalla popolazione e non si capisce perché insomma la regione sia nei confronti magari di malati di mente che quelli dell'Alzheimer che sono persa poco insomma appartengono alla stessa categoria allo stesso settore ebbene a queste esigenze non vengono soddisfatte una struttura residenziale per malati di Alzheimer che potrebbe essere in servizio a Fano e tutta la comunità provinciale è una esigenza ha detto Antonio L'Accetera che non può essere ignorata quando si scopre di avere un malato di Alzheimer in casa sono veramente problemi le famiglie rappresentano il principale supporto per il paziente affetto da demenza e si fanno carico dell'80% dell'assistenza senza avere nessun sussidio economico né un appoggio di carattere psicologico insomma in termini di salute globale ecco perché occorre incentivare in questo caso la cura e l'assistenza di carattere sanitario e poi vediamo come a livello di campagna elettorale il resto del Carlino dà ormai per definita l'accordo del centrodestra che punta sull'elezione a sindaco di Luca Serfilippi il consigliere regionale della Lega a bloccare la situazione a sbloccare anzi la situazione è stato il colloquio tra Aguzzi che era anche lui uno dei candidati sponsorizzato da Forza Italia il colloquio con Acquaroli insomma Acquaroli che aveva convinto Serfilippi a proporsi candidato ha parlato con Aguzzi e quindi è ora Aguzzi si ritira e lascia il campo libero al giovane candidato della Lega sembra che ormai la cosa sia definita mentre nel centro-sinistra ancora si cerca di attuare una intesa con i progressisti importante l'incontro di ieri pomeriggio alle 17 nella sede di Vianolfi tra il Partito Democratico e Azione sappiamo come Azione si è schiarata con i progressisti poi si è spostata un pochino nel mezzo e ora tenta di fare da interfaccia tra i progressisti e il centro-sinistra stesso e insomma Marchegiani è uno dei candidati molto probabili per quanto riguarda la coalizione avversaria dal centro-destra e poi vediamo invece un'iniziativa scolastica di rilevante importanza ebbene chi considera il greco antico una lingua morta sbaglia tantissimo il greco antico ci dà la possibilità di conoscere non solo il significato delle parole ma anche di fare di queste parole un'emozione un modo di espressione molto molto più sentito di quello invece che magari la etimologia non viene conosciuta è il regalo che farà il preside Samuele Giombi quello di donare il vocabolario dei sentimenti in dono agli alunni è proprio il preside del liceo classico Nolfi a Polloni classico linguistico scienze umane insomma artistico insomma sappiamo tutti gli indirizzi di questo tipo di scuole darà ai propri alunni ebbè un vocabolario sentimentale con 12 parole dal greco antico per esplorare un'esperienza umana e umanistica come l'amore ebbene dell'amore ha tanti tanti significati e oltre a quello dell'Eros ce ne sono tanti altri e proprio il preside terrà questa lezione sarà molto molto interessante per i ragazzi che potranno così approfondire anche quello che hanno all'interno e riesceranno con queste parole a manifestarlo e poi vediamo anche il successo ottenuto dal concerto diretto da Beatrice Venezzi ieri sera al Teatro della Fortuna di Fano una delle iniziative culturali più importanti del Carnevale e Beatrice Venezzi sarà presente anche domani alla sfilata dei carri dove il pupo magari dove il soggetto del Carnevale lei la madrina del Carnevale è stato dedicato proprio alla direttrice clima disteso spettatori soddisfatti al termine del concerto una piacevole anteprima in un clima colloquiale è stato l'incontro tra Beatrice Venezzi e il pubblico stesso che ha così anticipato l'esecuzione del concerto passiamo ora alla pagina di Pesaro dove anche sul resto del Carlino si parla delle richieste delle mamme di avere un posto degli asili nido sono diverse le famiglie che resterebbero fuori per insufficienza di posti la protesta dei passeggini così viene intitolata o trovate posti all'asilo o le mamme vanno in piazza 200 bambini esclusi dai nidi delegazione di madri in comune cosa ce ne facciamo dei voucher se poi non possiamo iscriverli sono quei voucher con i quali la regione pensa di risolvere il problema che in realtà poi non si risolve i trattori i trattori ripartono ormai si sta così definendo verso il termine la protesta degli agricoltori gli incontri che sono avvenuti questi giorni a Roma stanno comunque soddisfacendo almeno in parte le richieste del mondo agricolo il casello di Pesaro che è stato animato il casello autostradale che è stato animato da tanti mezzi in questi ultimi giorni si sta piano piano svuotando ce ne andiamo ma non molliamo hanno detto gli agricoltori cinque giorni di presidio finiti ieri sera la solidarietà dei 60 studenti dell'agrario arrivati sul posto e li vediamo qui in questa fotografia i ragazzi i ragazzi che vogliono fare poi gli agricoltori e che conoscono bene le difficoltà di questo lavoro ma anche tutte le prospettive tutto l'amore che gli agricoltori danno al proprio lavoro per un lavoro faticoso che comunque costituisce uno dei settori primari della nostra economia anzi l'agricoltura è il settore primario poi viene il secondario il terziario e tutti gli altri il produttivo il commercio e via dicendo carnevale dei ragazzi lunga storia domani torna col rischio pioggia speriamo che non sia così tutto pronto per la 67esima edizione con 11 allegorie si parla ovviamente del carnevale di Pesaro un carnevale organizzato dalle parrocchie ma tanti tanti saranno i bambini che parteciperanno a questa manifestazione come sempre dal 1958 quando il carnevale a Pesaro ha ripreso vigore con la maschera del Rabachain che si è trasferita temporaneamente a Fano e poi vediamo un articolo di cronaca la notte calda del giovane cestista è un diciannovenne che ha picchiato un agente definito in amette aveva dei trascorsi sportivi militava nelle squadre giovanili ma ha litigato con la ragazza portato in ospedale ha ferito anche il poliziotto e quindi guai per questo ragazzo e con questa notizia chiudiamo la nostra pagina del resto del Carlino e voglio soltanto annunciarvi lo sport di questo weekend visse adesso i punti cominciano a pesare a fermo serve una gara veri da veri opportunisti servono veramente punti mentre per il Fano Calcio con il nuovo presidente Pierluigi Petritola no con il nuovo presidente guida si pensa a Petritola come nuovo dirigente appunto della squadra e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa vi auguro un buon weekend un buon carnevale ci risentiamo lunedì alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie